Medevac Small Puch Green è una taschina medica che serve per contenere un set di emergenza medico. Chiusura al velcro, doppia taschina anteriore, velcro esterno per eventuali patch, apertura accendiera lampo, interno attrezzato, elastici di contenimento, taschina, foro autosvotante, dall'altra parte sempre elastici, sopra e sotto doppi, altra c'è una lampo con taschina capiente, cordura milleten, ottimamente cucita, attacchi molle, adattabili a qualunque cinturone dilettate. Chiusura ad automatico. Grazie. 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 Grazie.